Siamo qui con il capitano dei legionari che sono riusciti a recuperare dal risultato di 2 a 0 per finire la partita 3 a 3. Siamo con il capitano Moroni che è gentilmente venuto ai nostri microfoni a cui chiediamo innanzitutto un giudizio sulla sua prestazione. Diciamo abbastanza buona, sono partito un po' acciaccato, problemi in settimana, però fortunatamente non si è visto un campo. Non si è visto anche perché c'è stata una grande rimonta, pensa che è un segno della qualità della squadra, anche il fatto che dopo essere andati in svantaggio di due gol c'è stata una grande ripresa nel secondo tempo? Assolutamente sì, stiamo passando un periodaccio bruttissimo, mai successo da quando giochiamo qui, però siamo una squadra che non molla mai. Combattiamo sempre e stasera si è visto, questo è nel nostro DNA, combattiamo e lottiamo fino all'ultimo minuto. Ora per le prossime partite qual è l'obiettivo, qual è lo sprone che avete per tornare a contendere? Continuare così, con questo gioco, questa grinta, questa voglia, solo così possiamo rialzare la testa e riuscire a cambiare le sorti del torneo.